Cosa ne pensa della campagna pubblicitaria lanciata dal governo di Sisischia? È un'iniziativa anche meritevole perché sicuramente è un'iniziativa che sposa varie esigenze, soprattutto un forte coinvolgimento delle persone presenti sull'isola, non tanto degli ischitani, ma delle persone presenti sull'isola che verranno a testimoniare la vivacità dell'isola e le bellezze straordinarie di cui gode, ma secondo me ha una portata, che ovviamente ha una portata meramente legata al profilo comunicativo. Noi stiamo chiedendo invece che ci sia da parte del governo un forte impegno economico su Ischia, in particolar modo per quel che riguarda i temi della tutela del territorio, del governo del territorio e della rigenerazione. Questo è quindi la sicurezza. È un tema fondamentale, la regione Campania ha investito già alcuni milioni di euro, e poi è necessario che lo faccia anche il governo, ma lo faccia non tanto con una dichiarazione di principio, ma con delle iniziative specifiche, concrete, in cui poi si crei un tavolo di riflessione congiunto tra governo e regione Campania. La stampa internazionale ha nominato Ischia l'isola più bella del mondo, bisogna renderla sicura e funzionale in vista della prossima stagione primavera-estate? Sì, è necessario che questo accada, mi sembra che tra i sindaci dell'isola di Ischia vi sia una maggiore volontà di convergenza, di concordia e di progettualità congiunta, un po' quello che hanno fatto i sindaci della penisola sorrentina, quando si sono resi conto che la cooperazione tra loro era vincente, però è necessario anche che vi sia un po' anche di maggior senso di responsabilità da parte degli operatori, io chiedo agli operatori un particolare e straordinario impegno per il senso di responsabilità, anche il 6 marzo che andremo alla regione Campania con i suoi operatori, in particolar modo con la costa d'Amalfi che sta promuovendo questa iniziativa, si andrà all'ambasciata di Berlino quando si va lì e si vuole sostenere Ischia, come sta facendo la costa d'Amalfi, è necessario come sta facendo la costa d'Amalfi che tutti siano più responsabilizzati, tutti capiscono che la competitività passa attraverso un forte senso di legalità e un forte senso di responsabilità imprenditoriale. In questo chiedo agli imprenditori e quindi al parterre generale, tutti gli imprenditori ischitani, soprattutto quelli organizzati in maniera associativa, di confrontarsi con le amministrazioni locali per farci giungere proposte che siano il più possibile credibili all'interno della nostra programmazione annuale 2023 ma anche triennale 2023-2025 che stiamo redigendo.